Il tuo bianco in pittura non è abbastanza bianco? Forse stai semplicemente sbagliando il bianco. Sai che ne esistono di differenti tipi? Esiste il bianco di titanio, il bianco più coprente in assoluto, sotto tono freddo e sicca velocemente, ma rende coprenti anche i toni che noi vorremmo trasparenti. Per i toni che vogliamo lasciare trasparenti ma vogliamo rischiarare, ti consiglio il bianco di zinco, sotto tono freddo e sicca meno velocemente, ma non tradisce la trasparenza dei colori. Il sotto tono freddo però fa virare leggermente i colori caldi. Per questi ti suggerisco il bianco di piombo, difficile da trovare in commercio perché ha una componente tossica che lo relega a settori molto ridotti della produzione, ma ha un sotto tono caldo che si mesce benissimo con le tinte calde.